Prorogata di un anno la validità del certificato digitale Covid-2 che sarebbe scaduto il 30 giugno prossimo, accordo raggiunto tra Parlamento Europeo e Consiglio per continuare a disporre del Green Pass e facilitare gli spostamenti nell'Unione Europea. Gli Stati dovranno assenersi dall'imporre restrizione alla libera circolazione per i titolari del certificato. Potranno imporle solo se proporzionate necessarie e non discriminatorie allo scopo di tutelare la salute pubblica. L'accordo dovrà essere ora adottato da Consiglio e Parlamento per entrare in vigore entro il 30 giugno. L'Aula lo voterà nella mini-plenaria della settimana prossima a Bruxelles.